Molte sono le attività della Berlinale, riferite al cinema e alle opportunità del settore. Tra questi si contraddistingue Berlinale Talents, che è un programma di sviluppo dei talenti che esplora il come e il perché delle realizzazioni di un film. Dal 2003 è cresciuto fino a diventare un forum unico nel suo genere per i professionisti del cinema e gli amanti del cinema, con discorsi pubblici, workshop specifici per disciplina, laboratori di sviluppo di progetti ed eventi di networking. Mentre le sezioni della Berlinale mostrano i film in tutte le loro sfaccettature e l'European Film Market è il fulcro degli affari più vivace del festival, il focus del Berlinale Talent raccoglie le persone creative e il mondo in cui vedono il mondo attraverso una lente diversa. La missione di Berlinale Talents, in qualità di facilitatori culturali, mira a crescere connessioni sostenibili tra i registi e i creatori di serie più promettenti al mondo. I partecipanti si distinguono per la loro visione creativa e per il loro impatto sulle loro comunità locali. Soprattutto è rivolto ai giovanissimi. A loro offre guida, tutoraggio, contatti e visibilità per i progetti e inoltre borse di studio tutto l'anno e sette propaggini internazionali che coprono il mondo dell'America Latina, Medio Oriente e Asia, si promuovono i migliori talenti emergenti in quelle regioni.